qua col paltro non si sgarra daglielo daglielo e andiamo oh salve salve bravo oh oh ah 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 ci apri paolo ma dai no se no dopo voglio passare tutti ma devo andare su a filmare che poi chiudi no era per risparmiare tempo un po' paolo me la apro io paolo me la apro io ma 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 la ma 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 Daniello! E' una seconda No, per caso che non c'è più Ma va Se lo fa elettro e... Oh Eh no, dai c'è lì a loro Eh no, ma lì ci faccio che ci sono No Per il massimo il trono in cinque Qua mi sa che lì c'è Ma io l'ho fatta salire E allora boh, se tu ti fidi No, è che poi noi siamo fermi però Eh, perchè puoi trovare qualcuno che ci tiri fuori da lì? No, dai dai Com'è di qua? Se siete già stati voi? No, perchè io ho sempre mandato a mancare Cosa dici là? Secondo me ci rimaniamo Perchè siamo pesanti Siamo pesanti No, perchè l'altro è forte Già pesanti Quante lì sei alla fine? Perchè noi prima l'abbiamo fatta al contrario Beh, ma poi doveva uscire da quella belma lì Dai 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 Andi asciuti qua va Andi asciuti qua va Perchè Perchè